Le avventure di Gigi, Robo d'acciaio. Oh, Gigi si è fira. Dichiaro aperto ufficialmente questo consiglio comunale. Tutti presenti? Bene, ecco qua, tutti al mare come al solito. Allora, voglio organizzare una festa bellissima a Piazza Plebiscito. Un Rosetta Day. A Piazza Plebiscito? E' un blocco a metodo rosa. Già la vedo, una festa per i giovani presenterà Pippo Baudo. Miei consiglieri, conoscete giovani proposte? Ma io ho detto giovani, eh? E allora non si occorre il gloriano. Ma da quanto tempo che non compri un cd? Eccolo, non ci trova, signor Gramofro. Io di un cd, Fabrizio, di Anastasia o Anastasia come dite voi. Sono due cd, se vuoi una sola Anastasia parziale. Se vuoi tutte e due Anastasia totale, però, tascite tutto in sala nuda. Vabbè, allora organizzamela tu questa festa. Sì, padrone. Bravo, prendi la metropolitana. A Napoli c'è sempre traffico. E... Gigi, a Rostayenne. E io nonno si sta mangiando sotto la pensione. E per che cosa? Fai a cantare. Ollo, che vuoi mi sentire? La gelatina, e perché stai a cercare capirla? Senti, voglio partecipare al festival di Napoli, voglio cantare. Chi ha cantare? Lui, mamma mia, se tu stai a prendere, se fai, c'è un po' capire no? Senti, lì, davvero, ma c'è mai luato uno sfizio? Mamma del padre, stanno sempre mangiando i soldi, voglio cantare. E poi sono cuno che canta i cori. Sì, cazzo la canzone, vi restate a piacere. E chi te l'ha scritto? Gigi, che te l'ha detto? 1, 2, 3, test 1, 2, 3. 1, 2, 3, test 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 1, 2, 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 test 1, 2 non lo senti a chiesto io, sono quel giorno molto profondo nonno, c'hai rotto i timpani nonno, quando faccio monastere Santa Chiara la pitta e quando mi chiedono a vista sai che faccio? cosa? con la seconda mano il problema è che io non sopporto monastere Santa Chiara e allora? tramonta luna tramù, tramù, tramù adesso nonno, c'è già straccio a corte bocone e fuori dal balcone? e allora c'è straccio a corte bocone si ma la prossima puntata e ora che faccio? aspetti applausi